Venerdì 4 maggio 2018. È il 124esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale del toro. La chiesa ricorda San Fulvio. L'onomastico. Oggi si festeggiano gli onomastici di Fulvio, Fulvia e Floriano. Cognomi italiani. Il cognome di oggi è Draghi. Deriva dal nome proprio medievale Draco ed è diffuso principalmente in Lombardia, Emilia e Toscana. La variante Drago è diffusa in tutta Italia, con nuclei importanti in Sicilia, Veneto e Liguria. Dragonetti è proprio della Puglia, mentre Dragoni è diffuso nelle regioni centrali. Accadde oggi. Il 4 maggio del 1949, sulla collina di Superga, si schianta l'aereo che trasportava la squadra del Grande Torino. Nessun superstite. A seguito dell'immane tragedia, il 4 maggio viene ufficialmente considerato dalla FIFA giornata mondiale del gioco del calcio. Chi è nato oggi? Tra i personaggi famosi nati oggi ricordiamo l'attrice britannica Audrey Hepburn, nata a Bruxelles il 4 maggio 1933. La citazione da ricordare. L'ottimista è un uomo che senza una lira in tasca ordina delle ostriche nella speranza di poter pagare con la perla trovata. Ugo Tognazzi. Dice il saggio. Chi non si avvicina, non tocca. Proverbio giapponese. Un consiglio al giorno. In cucina possono spesso accadere dei piccoli incidenti, soprattutto col fuoco. Per sicurezza, tenete sempre a portata di mano una caraffa piena di sale o di bicarbonato di sodio. Sarai il vostro estintore casalingo.